Oh, oh, oh! Ah! Grazie dottore, grazie di tutto! Non potete fare questa! Oh, certo che possiamo farlo, sono un medico! Non potete mettervi in casa una donna malata! Sperate di prontolare, questa è una razione! Ascolta, noi vogliamo che tu stia con noi, è vero? Certo, è vero. Va bene, avete vinto? No, no. Io ho vinto. Però lei adesso si è enamorata di Nick. Grazie a tutti e due. Ma lei è stata con Nick? Sì! Non c'è stata! Io ricordo di sì! Ma quando? Siamo sposata con Taylor! Questo è pesce? Che padre! Ho già finito! Bettinelli! Cioè, non c'è proprio niente oggi! Paaaam! Ma addirittura... A Martina! Pedro! Pedro! A Martina! 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 I bianchi rimontano! Eh! Oh cacchio! Mi sono... A Martina! 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 cosa vuol dire cioc cioccolata no bagno uomini guarda se fuori com'è where I hope you survive I'm gonna rain on your parade ma che è? cosa mangiate? ma polenta cosa è? polenta con che? che cos'è questo? buono grazie qui c'è il formaggio cos'è questa verdura? carciofi mamma quanto sei bella frota è pesce pesce? no no è carne non è pesce carne è pesce è carne carne che miseria ce l'ho in bocca è pesce sei sicura? si si non so se mi piacciono i carciofi non lo sai? ti piacciono? no panni mi passi l'olio e il sale per favore grazie no no sana volenta va al sugano volenta va al sugano te la va al sugano vuol dire è solo in coda apri un po' qua guarda i miei capelli versiamo il profilo cosa ci ha spessato Adri padre qua sta bollendo la parola non faccio staccare scotta c'è il piatto no il piatto no la roba scotta collegamento in diretta guardate che mi metto di lì che tanto ci vanno a mangiare non ho fame adesso cosa fanno a colazione loro? scotta 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 Grazie.